Sindaco, lei è tornato al lavoro dopo il periodo di riposo dovuto al Covid. Che situazioni ha trovato? Salve, veramente sono tornati in ufficio perché al lavoro anche in questi 21 giorni sono stato sempre operativo, abbiamo fatto diverse giunte e sono stato costantemente in contatto con gli assessori. La situazione è che qui nella casa comunale tanti dipendenti stanno facendo il lavoro da casa, i smart working, per cui sono venuto per incontrare alcuni assessori e alcuni dirigenti. La situazione mi preoccupa è quella dell'emergenza coronavirus, abbiamo il problema del processamento dei tamponi, tanti cittadini si stanno rivolgendo a strutture private per fare questo tampone antigenico che vorrei ricordare ha un'attendibilità elevatissima questo tampone antigenico. Purtroppo, così come sono previste dai vari DPCM, questi tamponi rapidi non sono equiparati ai tamponi molecolari, per cui anche un positivo al tampone antigenico deve superare il test del tampone molecolare affinché si avvii un po' tutta la procedura. Lei è stata in ospedale ieri mattina, si è reso conto che mi diceva a microfoni spenti che i posti sono tutti già occupati? La prima cosa che ho fatto, ieri sono uscito per la prima volta una mezz'ora, potevo già uscire tre giorni fa, sono andato a verificare come è la situazione del nostro pronto soccorso, della tenda dove fanno il triage e ho preso informazioni sul reparto Covid di Crotone. Allora, il reparto Covid di Crotone ha 30 posti letto e può essere esteso per altri 10 pazienti, per cui i posti ieri erano 29 persone ricoverate col Covid, per cui in questi giorni presumo che ci saranno l'estensione degli ulteriori posti. Non è il caso di accettare la proposta del Marrelli Hospital, ad esempio, che potrebbe mettere a disposizione della città un reparto Covid? Ma non è la sola struttura che potrebbe essere messa a disposizione, ma mi viene in mente l'ospedale di Mesoraca, tutte queste piccole strutture che sono state chiuse in questi anni. Cosa si aspetta ad attivare queste unità di terapia subintensiva? Cosa si aspetta? Guarda, questa è la domanda che bisogna fare. Io sono molto arrabbiato, guardi, su questa vicenda qui.